Beh, quando mi sono reso conto che potevo stravolgere, fare, dispare, ho iniziato veramente a farlo, quindi un potere che non mi aspettavo, mi sono molto divertito, mi sono dato completamente a un certo punto, anche emotivamente, si è anche visto nel programma, perché le cose non si fanno, hanno fatto al 100%, ci ho piegato un po' a capire com'era, una volta che ho capito che il vero show è dietro le quinte, sono entrato qui dentro e ho giocato, Poi va bene, abbiamo di fianco qui il motivatore, fondamentalmente succedeva così, noi dovevamo motivare i ragazzi, però quello che non si vede è quanto io e lui dovevamo motivarci a vicenda, ogni volta che dovevamo cantare e quindi avere la responsabilità del punto, sono fatti delle menate incredibili che non ci siamo mai fatti magari quando dobbiamo andare a cantare sul nostro bambino.